Ciao a tutti cari amici, volevo cogliere l'occasione per un saluto, per un messaggio di solidarietà e di vicinanza. Io vi conosco tutti personalmente, quindi conosco la vostra capacità di resistere, la vostra capacità di affrontare i periodi più neri, di combattere ogni giorno in vigna e in cantina. Conosco la capacità che è tutta ligure di far fronte a ostacoli che per qualcuno potrebbero anche apparire insormontabili. D'altronde noi ci siamo un po' abituati tutti i giorni a confrontarci con paesaggi ostili, difficili, con pendenze impossibili, condizioni che hanno reso noi liguri agli occhi di qualcuno o secondo qualcuno delle persone dure, dei figuri rigidi magari un po' sulle posizioni. Però io preferisco definirci come persone forti, come persone caparbie, come persone resilienti, cioè capaci di adattarci a condizioni negative, le più disparate e spesso traumatiche come sta succedendo in questi giorni. In effetti quello che stiamo vivendo in queste settimane ha dell'incredibile, è inutile negarlo e ritengo che le ripercussioni che anche il mondo del vino subirà non saranno né poche e tanto meno minime. Però sono certo anche di un'altra roba, sono certo che tutti noi insieme avremo la forza per affrontare questa emergenza e in qualche maniera le difficoltà che ne conseguiranno, anche quelle più importanti, anche quelle più significative. fa parte un po' del nostro DNA. Essere liguri significa anche questo, avere la capacità di resistere a tutto, di sopportare tutto, uno spirito indomito che spesso soverchia a qualsiasi tipo di situazione negativa. Quindi credo che anche in questo momento noi saremo in grado di tirar fuori dal nostro essere più profondo quelle caratteristiche che ci permettono di non arrenderci mai. Siamo liguri, amici viticoltori, siamo persone che veramente hanno uno spirito difficile da piegare, da rompere. Non ci arrendiamo mai, non ci arrendiamo mai e anche in questa volta troveremo dentro di noi veramente la forza per venire fuori ancora più forti, ancora più in qualche maniera incisivi e vogliosi di prima. Un forte abbraccio a tutti voi e teniamo duro, teniamo duro che ce la faremo.